Si parte dalla Liguria e si decide di vivere e di lavorare in Malesia? Allora, il mio è stato un viaggio diciamo abbastanza lungo perché sono partito nel 2017 e abbiamo vissuto insieme alla mia famiglia cinque anni in Corea del Sud perché la mia azienda, ho avuto una possibilità per la mia azienda di vivere là e poi alla fine dell'anno scorso abbiamo avuto questa possibilità di spostarci in Malesia e ovviamente dopo cinque anni di Corea con relativo freddo durante le fasi invernali abbiamo colto l'occasione di venire in un posto caldo nel tutto l'arco dell'anno. Che paese è la Malesia? Allora, un paese che mi ha sorpreso in quanto culturalmente ci sono quattro culture che vivono diciamo in armonia quella indiana quindi diciamo con la religione hindù quella cinese con parte cristiana e parte buddista e poi quella malese che è prevalentemente musulmana e questo è molto bello in quanto queste diverse culture riescono a convivere in maniera pacifica è una cosa che mi ha sorpreso venendo soprattutto dalla Corea ma anche dall'Italia dove ovviamente non c'è questa diciamo mix culturale. Ecco e le particolari differenze lei così ci può aiutare anche a fare le differenze da una parte con l'Italia ma dall'altra anche dalla Corea del Sud anche su come sono le persone o su come ci si muove normalmente nella vita quotidiana perché noi abbiamo un'immagine un po' come spesso accade in tanti paesi ma soprattutto in Oriente un po' stereotipata facciamo un po' un mix almeno la maggior parte. Assolutamente, beh c'è da dire che il sud-est dell'Asia è molto differente dal nord quindi Giappone, Corea e qua per uno straniero è molto più semplice integrarsi praticamente tutti parlano inglese sia dalla persona al supermercato che anche nel mercato tradizionale quindi è molto semplice la comunicazione i miei genitori sono venuti a trovarmi a settembre-ottobre e anche loro non hanno avuto problemi di comunicazione quindi questo è un vantaggio le persone come dicevo prima essendo abituate a una diversità culturale poi ricordiamo che la Malesia è stata anche per anni colonia britannica sono molto aperte nell'accettare gli stranieri e quindi l'integrazione ho visto anche per mia figlia è stata molto semplice diversamente dal nord dell'Asia come ad esempio la Corea dove sono molto più conservativi riguardo all'accettazione degli stranieri E rispetto all'Italia, Mannucci c'è tutto un altro mondo Allora il malese di per sé è abbastanza simile nel senso che a livello familiare sono molto coesi come succede in Italia molto gioviali nella comunicazione quindi ho trovato un ambiente ad esempio nel mio ufficio molto simile a quello che avevo in Italia ci sono i pro e i contro qua la burocrazia sembra strano dirsi ma è molto peggio di quella italiana Oh mamma mia il primo paese che abbiamo trovato con la burocrazia peggio dell'Italia Assolutamente assolutamente le dico che per avere il permesso di soggiorno ho dovuto aspettare cinque mesi pur essendo supportato da agenzie specializzate quindi le dico che su questo e altre cose su cui mi sono informato per trasformare la partente da italiana a malese hanno tempi oserei dire biblici una notizia questo la burocrazia malese è peggio di quella italiana Assolutamente assolutamente mentre nel nord dell'Asia tipo in Corea funziona tutto alla perfezione quindi diciamo paese che vai usanza che trovi ma sono riusciti a farmi rimpiangere la burocrazia italiana e questo è veramente una notizia senta che cosa le manca in conclusione di più dell'Italia della Liguria di Genova Beh io sono nato a Sestri ho sempre ho anche lavorato lì ho studiato lì quindi sono un sestrese doc e Sestri è un po' un paese nella città mi manca sicuramente questa diciamo comunità dove sono cresciuto è a misura d'uomo esatto le grandi metropoli sono un po' dispersive e quindi è sempre un po' difficile avere una propria comunità di amicizie in breve tempo come succede nel proprio paese e questo sicuramente mi manca poi ovviamente la focaccia il pesto e altre cose che qua sono dure da trovare o comunque abbastanza delle chimere Senta Mannucci allora come sempre facciamo con i nostri amici in giro per il mondo la lascio salutare nella lingua del paese che la ospita ora lei ci ha detto che si parla inglese però un saluto in malese ce lo fa? Sì assolutamente Se no è in coreano e veda lei Posso farlo in entrambi comunque In entrambi wow due saluti questa mattina da imparare vada Per la Malesia siccome abbiamo appena finito le elezioni alzo un grido Malesia che vuol dire la Malesia ce la può fare e invece lato coreano vi saluto con che vuol dire arrivederci Vabbè più o meno si può fare pensavo peggio grazie mille Michele Mannucci di Giovese a Kuala Lumpur Malesia buona giornata ormai per lei buona serata buona giornata arrivederci a Kuala Lumpur a casa a Kuala Lumpur a Kuala Lumpur Grazie a tutti.